Gli italiani siamo noi. Siamo stati definiti come un popolo di santi, navigatori, e aggiungo io, sognatori, oltre a poeti e molto altro ancora. Sognatori perché riusciamo, tante volte, a immaginare qualcosa che ancora sembra impossibile, e poi magari lo realizziamo pure. Siamo sognatori perché piace immaginare in grande, piace immaginare fuori dall'ordinario. Ecco, la genialità italiana deriva anche da questo, dalla capacità di sognare. Però tante volte questa genialità si scontra? Beh, si scontra con tanti altri problemi. Problemi di carattere economico, finanziario, immateriali, politici, internazionali. Problemi che impediscono al nostro paese di sviluppare quelle idee. Ad esempio, in ambito navale. Lo sapevate che la prima nave da battaglia moderna al mondo, la HMS Dreadnought, in realtà era figlia di un italiano? Di Vittorio Cuniberti, esattamente. Colui che aveva teorizzato la prima nave da battaglia monocalibro al mondo. Ma all'epoca il Regno d'Italia non aveva le risorse per sviluppare quel tipo di nave. Così, il sogno di Cuniberti, l'idea, il progetto di Cuniberti, viene applicato dagli inglesi. Inglesi che furono i primi, dunque. Ma non nell'ideazione. Ma qui parliamo di un altro tipo di nave. Parliamo di portaerei. Sì, lo so, mi direte, hai già fatto un video sulle portaerei? Perché parlare un'altra volta? Ma che ho? Beh, per un motivo semplice, anche editoriale. Poco tempo fa è uscito nelle librerie questo volume. La Portaerei Impero. Non so se lo troverete, non è stato pubblicato in moltissime copie ed è un vero peccato. Perché contiene dei documenti al suo interno. Davvero interessanti. Documenti che i due autori hanno ritracciato e che permettono di tratteggiare i tanti motivi e le tante occasioni sprecate per la regia marina per ottenere la sua prima portaerei. Della portaerei, come abbiamo detto, abbiamo già parlato, abbiamo descritto che cosa sia, abbiamo soprattutto distinto le varie fasi e le varie tipologie oggi esistenti. L'Italia attualmente non ha una vera e propria portaerei. Ha degli incrociatori portaereomobili. Il Garibaldi, che dovrebbe essere destinato a uscire di servizio dopo una lunghissima carriera durata veramente tanti decenni. E la Cavour, di realizzazione più recente. A fine anno dovrebbe arrivare la nuova nave, Trieste, che sostituerebbe il Garibaldi. Ma è tutto qui? Solo questo? In realtà, l'allora regia marina aveva studiato più opportunità. Ma per un motivo, o per un altro, non si è mai andati a fondo. La prima opportunità enorme per l'Italia non ancora fascista arriva nel 1922. Conferenza navale di Washington. È una conferenza tesa al disarmo, almeno al contenimento delle spese militari per la corsa alla guerra sui mali. Non dimentichiamo che uno dei motivi scatenanti della Grande Guerra era stata proprio questa corsa agli armamenti navali. Una corsa a due, tra il Regno Unito e la Germania Imperiale. Il tutto nonostante, come abbiamo già visto in un altro video, sostanzialmente i due sovrani fossero cugini. Voi direte, vabbè, era una lotta in famiglia. Sì, ma è stata una lotta in famiglia che ha scatenato, prima di tutto, una corsa ad accappararsi gli armamenti più moderni e a sviluppare tecnologie sempre più avanzate. E poi ha scatenato grandi battaglie. A cominciare dallo Newtland, senza dimenticare tutte le altre. Quella conferenza navale. Washington, 1922, è solo la prima di una lunga serie che doveva tendere a un parziale disarmo, a un contenimento tanto del tonnellaccio quanto dello sviluppo di armi sempre più pesanti e sempre più terribili. Invece, in quella conferenza, sarebbero stati definiti degli equilibri di forza. L'Italia, ad esempio, con, bisogna dirlo, un eccezionale colpo di teatro diplomatico, si fece riconoscere una parità navale con la Francia. Era un risultato, prima di tutto, diplomatico, l'abbiamo detto, ma anche a livello propagandistico. La Francia veniva vista e vissuta in quel periodo come la grande nemica, la grande avversaria, la vicina pericolosa, la vicina con cui guerreggiare un domani. La differenza è che la Francia aveva un esteso impero coloniale che richiedeva una flotta potente per pattugliarne e garantire la sicurezza per quanto riguardava le ruote commerciali. Non era il caso dell'Italia, che all'epoca poteva contare sulle spiagge della Cirenaica e della Tripolitania, e successivamente sul resto della Libia, sull'Eritrea, sulla Somalia e sull'isola del Dodecanese. Poca cosa in confronto all'impero coloniale francese. Eppure, eppure l'Italia riuscì a ottenere questo risultato. E all'interno di quello risultato erano presenti anche le porterie. O meglio, era stata data la possibilità all'Italia, così come la Francia, di costruire un certo tonnellaggio di navi portarei. Ora, la Francia decise comunque di provarci. Sfruttò lo scafo di una nave da battaglia non completata per costruire una nave sperimentale, la BA, che comunque di lì a poco si dimostrò una nave di scarso valore belli. Francesi poi avevano piani più ambriziosi, volevano costruire un'unità finalmente pensata come portarei, come la Joffre, o altre unità ancora più avvantate, ma avvicinarsi alla guerra e poi lo scoppio della guerra e l'invasione tedesca mandarono all'aria tutti questi piani. L'Italia? Ecco, arriviamo al punto. L'Italia ottiene appunto questa possibilità, solo che per un motivo o per un altro non c'è voglia, non c'è intenzione di farla, questa portarei. Per quale motivo? Beh, da un lato ci sono delle resistenze di carattere politico, è appena sorta la regge aeronautica, regge aeronautica che reclama l'assoluta indipendenza. Non solo dei mezzi, ma anche delle strutture. Quindi non più sottostare all'esercito da cui derivava e figurarsi se mettere a disposizione dei propri aerei alla regia marina. Regia marina che poi, ironia della sorte o della storia in questo caso, poteva contare inizialmente su una nutrita flotta aerea, le presto decimata, ridotta, annullata da questioni veramente politiche. L'assenza di una flotta aerea autonoma rispetto alla regia aeronautica e quindi alle strette dipendenze di regia marina rendeva già molto difficile la realizzazione di una nave porta aerei. Eppure qualcuno ci prova lo stesso. Il generale del genio navale rotta, ad esempio, ha un'idea. Un'idea che potremmo definire balzarra. Magari un'idea non erodossa. Anche ispirandosi a una delle prime classi di porta aerei britanniche, The Glorious, che nascono da degli enormi incrociatori pensati per un assalto anfibio, Rota progetta una classe di grandi incrociatori da classificare come porta aerei solo perché dotati di un ponte di volo. Un di volo però sostanzialmente da non utilizzare e per il resto armarli pesantemente, il più possibile, secondo i limiti del trattato. Idea ambiziosa, idea sognatore. È un sogno che muore all'anno, come tanti altri sono. Quel progetto finisce in un cassetto. Irrealizzabile. Non interessa. Meglio fare altro. Bene, lasciarlo stare. In quegli anni la regia marina prende anche in carico un'ex nave traghetto delle regge ferrovie e la trasforma in quella che si potrebbe quasi definire la prima nave porta aerei della regia marina, anche se non è una nave porta aerei. È la Giuseppe Miraglia, una nave appoggio idrovolanti. Una nave dotata comunque di alcune crue, alcune catapulte per lanciare gli aerei idrovolanti, ma che non ha grande valore bellico. D'altronde trascorrerà tutta la guerra in riserva. Alla fine si consegnerà a Malta con il resto della flota. Concluderà i propri giorni, tra l'altro, come nave magazzino e nave caserno. Quindi finisce qui. No! No! Perché l'inventiva dei generali del genio navale e degli ammiragli prosegue. Prosegue con esperimenti, con ad esempio l'idea di un grande catamarano con una piattaforma per aerei, anche questa cancellata, non interessa, non fattibile, richiede risorse, quindi via. Si valuta anche a un certo punto la trasformazione dell'unica unità varata della classe Caracciolo, delle grandi Super Dreadnought, insate durante la guerra, ma tenute in disparte, per dare la precedenza a altra produzione industriale e militare, in portieri. Niente da fare. La Caracciolo, unica della sua classe ad avere lo scappo completo e varato, viene tenuta in riserva. Non va in porto il discorso portieri. e si cerca addirittura di venderla come mercantile e alla fine verrà mestamente smantellato. Finisce qui? No, signori! Tac! Abbiamo altre idee, una dopo l'altra. Idee che, beh, alcuni potrebbero sembrare balzane. Ad esempio c'è un ammiraglio, un ammiraglio che ci prova. Si chiama Filippo Bonfiglietti. Anche lui prepara un progetto, un progetto che è di una autentica portieri. Vera, un toponte, o un'isola, il fumaiolo, e, come si usava all'epoca, via 928, con delle potenti artiglierie perché si ritiene che le navi portaerei debbano ancora doversi difendere a cannonate dal nemico. Solo molto più avanti si capirà che le portaerei possono benissimo contare sui propri mezzi aerei per difendersi dal nemico. Ma anche quel progetto non sa da fare. In contraresistenze, si dice che sia troppo costoso. Che in fondo non meriti considerazione. Insomma, per un modo, un motivo o una scusa, finisce in un cassetto nei ministeri della marina e da lì non esce più, finché il nipote non ritroverà molti, molti, molti anni dopo i disegni. Poi c'è qualcuno che propone addirittura di sfruttare gli scafi delle vecchie corazzate della classe Andrea Doria, tenute in riserva in quel momento, in attesa di capire cosa fa? Per realizzare una portaerea. Si tratterebbe sostanzialmente di togliere le sovrastrutture e trasformarle in portaerea. Un po' come si era pensato anche per la Leonardo da Vici, la terza unità della classe Conte di Cavour, affondata a Taranto durante la guerra nel porto, si dice per un atto di sabotaggio ordito dagli austro-ungarici, e recuperata dall'affondamento. Ma come il progetto da Leonardo da Vici non va in porto, la Leonardo da Vici recuperata, parzialmente riparata, viene alla fine smattellata, le due Doria non vengono riconvertite in poteri, anzi nessuna delle due vengono tenute ferme, finché non si decide di trasformarle, ricostruendole in moderne navi da battaglia, per rispondere alla solita miraccia francese, o supposta tale. Finito? No! Ce n'è ancora. C'è ad esempio un'altra nave, il Bolzano. Il Bolzano è un incrociatore pesante che, secondo alcuni teorici, rappresenterebbe una sottoclasse a sé. Il Bolzano viene costruito ben dopo le sue gemelle, il Trento e il Trieste, quando già sostanzialmente sono state impostate e varate anche le unità del tipo Zara, più moderne, più aggiornate. Il Bolzano viene costruito esclusivamente per una questione di rivalità tra cantieri e tra progettisti. Non si vuole che un cantiere rivale possa condividere delle tecnologie e dei progetti con altri. Spartizione dei meriti e soprattutto dei soldi, un problema che in Italia sia spesso. Ebbene, il Bolzano, definito da molti un errore magnificamente eseguito, potrebbe essere convertito in portaerei, perché no? Una portaerei leggera. Magari sfruttando l'esempio giapponese, mantenendo le torri d'artiglieria a livello più basso e poi sovrapponendo una sovrastruttura per gli aerei. Ma neanche questo è un progetto che viene considerato. Il Bolzano è ritenuto troppo prezioso come incrociatore pesante. E allora? E allora c'è un'altra opportunità che viene studiata all'indomani della crisi d'Etiopia, quando la regia marina teme che l'Inghilterra non applichi solo le sanzioni, ma faccia scattare anche la luce rossa del faro del canale di Sue. Quindi impedisca alle navi italiane di portare truppe e rifornimenti in Eritrea e in Somalia per attaccare l'Etiopia indipendente. Questo non accadrà mai. L'Inghilterra alla fine consentirà il trasito alle navi italiane, ma in quel periodo si inizia a pensare di poter convertire due navi passeggeri, il transatlantico Roma e la tonave Augustus in altre tante portaerei. È un progetto che viene tenuto in disparte, perché non ci crede nessuno tanto per cambiare. Poi c'è sempre l'aeronautica che fa la resistenza per l'utilizzo dei propri velivoli, dei propri piloti, insomma, meglio di no. E poi in quel periodo l'Italia sta già studiando le nuove supercorazzate di tipo Littorio, una classe di quattro navi che dovrebbe rivaleggiare surglassandole con tutte le vecchie unità della Royal Navy Britannica. Quelle navi, da Littorio, da Vittorio Veneto, da Roma e l'Impero, vengono costruite dai vari cantieri. Le prime due entrano in servizio poco dopo l'ingresso dell'Italia nel conflitto, la terza da Roma, in parte modificata rispetto al progetto originario, entra in servizio molto più tardi e come abbiamo già visto in un video di questo canale ha una tragica fine, viene affondata da delle bombe razzo radioguidate tedesche a largo della Maddalena il 9 settembre del 1943. C'è una quarta nave, l'Impero. L'Impero ha una storia simile a quella della Caracciolo. Viene impostata, guido lo scafo, varato lo scafo e poi, fermi tutti, non ci sono i materiali per completare la costruzione. O meglio, i materiali vengono dirottati verso altre priorità, perché un'altra grande capacità degli italiani è quella di arrangiarsi, diciamoci la verità. Si fa con quel che si può e quando non c'è tutto il materiale, allora ci cerca di riciclare, di compensare. In quanti ambiti l'abbiamo visto fare. In quel periodo, parliamo degli anni 40, torna in auge il progetto Roma-Augustus, quello che avevamo visto prima, quello per la crisi d'Etiopia. Dopo la patosta di Capo Matapan che sostanzialmente dimezza la flotta dei incrociatori pesanti della regia marina. Allora si torna a rispolverare quel progetto, la trasformazione del Roma e dell'Augustus in altre tante portaerei. L'Augustus, che dovrebbe diventare la Sparbiero, una portaerei leggera, ha una storia abbastanza travagliata e, alla fine, non verrà nemmeno completata. Al momento dell'armistizio, la nave era in stato veramente di ritardo nei lavori. E' appena state eliminate le sovrastrutture della nave da di porto, per cui sostanzialmente era poco più che una carcassa. Verrà affondata, alla fine, dai tedeschi e ritirata per impedire l'utilizzo del porto di Genova da parte degli alleati e, alla fine della guerra, il relito sarà recuperato e venduto per la demolizione. La Roma, o meglio Aquila, invece, arriva quasi a entrare in squadra. Certo, anche questa è una vita di trasformazione molto difficile, un po' per trovare gli aerei adatti, un po' per il progetto che richiede il sacrificio di un paio di incrociatori veloci della classe capitani romani che forniscono il proprio apparato propulsore e sostanzialmente vengono cancellati dalla costruzione. Però, all'atto dell'armistizio, l'Aquila è completa al 95%, mancherebbe delle ultime rifiniture e delle prove in mare. Proprio l'assenza delle prove in mare fa desistere il comando di supermarina da far prendere il mare alla nave che resta lì e anche questa verrà affondata nel porto, poi recuperata e smantellata da quella guerra. Torniamo all'impero. L'impero è ferma in banchina e lì è uno scafo, non c'è altro. Non ci sono i materiali perché i materiali vengono dirottati verso l'Aquila, verso la classe capitani romani, verso la costruzione di navi di scorta e anche verso la ricostruzione della Cavour, affondata a Tarato. Ne abbiamo parlato in un altro video. La Cavour, che è una nave vecchia, inadeguata, che ha dimostrato anche una certa fragilità. È andata a fondo con un solo siluro incassato. Eppure, eppure la Cavour per quasi tre anni occupa una banchina al porto di Trieste per la ricostruzione. La ricostruzione che non verrà mai completata. La stessa Cavour alla fine della guerra verrà bombardata e infine si ritroverà capovolta nel porto e non sarà semplice recuperarla per avviarla alla demolizione. Ma l'impero ha delle potenzialità. È una grossa nave, ha una potente quarazzatura e soprattutto c'è una novità. Già perché a partire dal 1941 i tedeschi stanno sviluppando un nuovo tipo di armi. Quelle che diventeranno note come le V1, le prime bombe volanti. Non sono ancora dei razzi, però quelle armi, chiamate armi di rappresaglia, potrebbero essere una novità anche sul fronte del mare. Per cui all'interno degli uffici del Ministero della Marina si comincia a pensare a trasformare l'impero in una non solo portaerei, ma lancia V1. E questa è la grande novità che viene presentata e viene svelata oggi dal libro che vi ho mostrato prima. Certo, nessuno ci aveva mai pensato prima. Nemmeno i tedeschi che in quel periodo pure avevano tentato di costruire almeno due portaerei. Di cui una, almeno conosciamo il nome, Graf Zeppelin. Certo, anche quella è una storia affascinata, ma non ce l'occupiamo ora. Ma alla fine anche l'impero, col suo ambizioso progetto di diventare una nave l'accia V1, non ce la fa. Non ci sono i fondi e soprattutto l'Italia ormai è avviata verso la sconfitta, verso l'armistizio. L'impero verrà abbandonata al suo destino, che non è certo quello di diventare né una corazzata né una portaerei. Verrà sbattellata anche lei alla fine. Questa è la incredibile storia di quelle che potremmo chiamare le portaerei mancate di Mussolini. Una storia affascinata, ma se guardiamo non finisce proprio qui. Già perché quando la guerra finisce e l'Italia si ritrova sconfitta, l'Italia però avrebbe delle idee, sì, proprio perché siamo un popolo di sognatori. E tra queste idee c'è quella di, perché no, imitare gli alleati, gli alleati che hanno vinto la guerra, ossia dotarsi finalmente di una nave portaerei. Non si può. Perché? Perché un articolo del Trattato di pace, sottoscritto da l'Italia, vieta la costruzione, l'acquisto e la sostituzione delle navi da battaglia. Navi da battaglia che tra l'altro, ricordiamo, l'Italia alla fine ne schiera sette durante la guerra, ne perde due. Roma, fondata dai tedeschi e Cavour, abbandonata nella propria sorte incompleta a Trieste, e ne preserva cinque. Di queste cinque, due dovrebbero andare agli alleati, una agli americani e una agli inglesi, ma questi rinunciano, preferendo però che vengano avviate la demolizione, tra l'altro prima, il segno di spregio, ordino che le volate dei cannoni principali vengano tagliate con la fiamma ossidrica. Una terza unità, il vecchio Giulio Cesare, viene ceduta come riparazione di guerra all'Unione Sovietica. Avrà una fine molto tragica, magari ne parleremo in un prossimo video. E poi avanzano Dory e Duilio, loro, le ultime vecchiette ricostruite, che non hanno avuto una gran carriera bellica. Tutto sommato sono ancora in buone condizioni, ma sono decisamente superate. Vengono mantenute in servizio per qualche anno, più che altro a scopo addestrativo, e poi anche loro, solita fine, demolizione. Ecco, quelle navi non si possono sostituire. Ma quell'articolo del Trattato di Pace vieta anche l'utilizzo e la sperimentazione, attenzione, sperimentazione, di unità portaerei. L'Italia in quel momento non ha portaerei. Volendo potrebbe anche provare a recuperare l'Aquila, però c'è quell'articolo del Trattato di Pace che impedisce di utilizzarla. Quindi perché recuperare e ripristinare una nave che poi non potrebbe essere utilizzata? L'Italia in quel periodo ha anche un'altra idea, quella di copiare, di idee inglese, delle navi Merchant Aircraft Carrier, cioè dei mercantili dotati di un ponte superiore per il lancio e l'appontaggio degli aerei, per avere qualche portaerei di scordo. D'altronde ci sono un po' di dai mercantili, un po' di petroliere qui a tingere, che sono sopravvissute alla guerra. Anche se un paio di queste fossero disponibili, c'è sempre quell'articolo di mezzo. Quindi no, non si può. Bisognerà superare, superare, superare sempre di più i vari ostacoli. Ostacoli che vengono dai passati dall'adesione dell'Italia alla Nato e poi successivamente alle varie revisioni e aggiornamenti dei trattati, per arrivare prima all'imbarco di velivoli ad ala mobile, di elicotteri, infine per ottenere, a fine anni Ottanta, l'utilizzo dei primi aerei ad arafissa sul Garibaldi. È una storia lunga e affascinante quella delle portaere italiane. È una storia, come abbiamo detto, di ingegno e di sognatori. Quello che resta, sfogliando le pagine, rivedendo i progetti dell'ora e anche analizzando le storie dei vari progettisti, è una sensazione di incompiutezza. Ed è un peccato, perché come spesso avviene, noi italiani siamo capaci di grande immaginazione, di grande innovazione, abbiamo la capacità di sognare in grande, però quei sogni, purtroppo, non si avverano mai. Grazie. Grazie.